I familiari di sette studenti morti sotto le macerie all'Aquila nel 2009 non solo non avranno il risarcimento, ma dovranno pagare le spese legali, circa 14.000 euro. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado del 2022, che aveva scagionato la Presidenza del Consiglio da ogni irresponsabilità. Una sentenza che aveva già fatto molto discutere, perché in pratica si scagiona, puntando sulla condotta in cauta dei ragazzi per i giudici. Significativo quello che si legge su Nicola Bianchi, il cui Papa Sergio, da anni si batte per avere giustizia. Nicola decise di restare all'Aquila perché aveva un esame l'8 aprile, ma poi uscì strada. Quindi questa tesi per i giudici andrebbe in contrasto col fatto che si era sentito rassicurato dalle parole del vice capo della protezione civile di allora, Bernardo De Bernardinis, unico condannato in sede penale. In sostanza la colpa sarebbe dei ragazzi, perché non ci sono prove per i giudici del fatto che fossero stati condizionati dalle parole dette e delle rassicurazioni. Il ricorso in appello era stato presentato proprio dai genitori. Il papà di Nicola, Sergio Bianchi, ricorda che già avevano 11.000 euro al primo appello, ora altri 14, ma al di là dei soldi c'è molta amarezza. Bianchi ricorda i due pesi e le due misure, perché altri studenti non hanno avuto il concorso di colpa. Metodi di valutazione per lui troppo diversi. Come si può, dice, demandare la sicurezza di un ragazzo di 22 anni? Bianchi ricorda pure che la casa nella quale abitava Nicola era stata oggetto di una riunione condominiale, il cui contenuto non si è mai saputo. Non dormo più, racconta, perché non riesco a trovare una logica. Per mio figlio, conclude, ci si è basati su un'ipotetica richiesta di controllo della casa, mai messa nero su bianco, quindi per loro lui sapeva che non poteva resistere, dunque doveva andare via. Un processo completamente sbagliato, dice amaramente.